Sabato 30 e domenica 31 luglio, sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico è andato in scena il quarto appuntamento del campionato italiano velocità. Per il team MR Racing, di cui Rossini TV e Media Partner, è stato un weekend assolutamente difficile. Entrambi i piloti, che corrono nella categoria Moto3, pur migliorando i tempi sul giro in ogni sessione di prove in questo circuito molto tecnico e reso ancora più difficile dal caldo, non sono riusciti a conquistare posizioni in griglia di partenza adatte alla loro potenzialità, tant'è che al termine del secondo turno di qualifiche Matteo Morri partiva dalla sedicesima casella e Gianpaolo Di Vittori dalla diciottesima. In gara 1, sabato, entrambi i piloti, dopo pochi giri, nella volontà di poter migliorare la loro posizione, sono rimasti coinvolti in quelle che in gergo si chiamano forze laterali, scivolando a terra fortunatamente senza conseguenze, mentre erano impegnati nel rimontare posizioni. Domenica mattina, nel turno di warm-up, i tempi fatti registrare avevano riacceso gli animi sia di Morri sia di Di Vittori. Addirittura Morri in pochi giri ha registrato il suo miglior tempo di sempre sul circuito di Misano con 1'43,97, mezzo secondo meglio del tempo della qualifica. Anche Di Vittori, migliorando la sua prestazione, aveva mostrato un aumento di feeling con il circuito. Purtroppo, nella gara del pomeriggio, Matteo Morri è rimasto vittima di una brutta caduta che, del tutto involontariamente, ha coinvolto anche il pilota che lo seguiva. Dopo essere stato portato per dei controlli al medical center del circuito, a Matteo è stata riscontrata una contusione alla caviglia sinistra e una sospetta infrazione dello scafoide metatarsale. Visto l'impatto a terra nella caduta, possiamo dire che i dispositivi di sicurezza utilizzati come airbag, casco, paraschiena, guanti e stivali, hanno svolto un lavoro di protezione eccezionale. Di Vittori, invece, ha tagliato il traguardo in quindicesima posizione, migliorando giro dopo giro il suo passo gara. Ora c'è la pausa estiva che permetterà a Matteo di rimettersi al meglio e a Giampaolo di continuare ad allenarsi in vista del prossimo round che si terrà nel circuito toscano del Mugello il 17 e 18 settembre.